Quando è stato fermato dagli agenti è perso il stato confusionale. Ora saranno la magistratura e i medici a valutare se si tratta realmente di una persona con disturbi psichiatrici, ma l'associazione sporge denuncia per avere giustizia. Se è malato deve essere curato e messo nelle condizioni di non nuocere più ad altri animali o persone. Così Piera Rosati, presidente della Lega Nazionale Difesa del Cane, associazione che ha sporto denuncia per quanto accaduto in un appartamento del centro Aretino, dove un uomo, 32enne, con precedenti, ha ucciso il suo cane, un rottweiler, con una balestra per poi infliggergli ulteriori ferite con un coltello. Attimi di terrore che si sono consumati sul balcone di una palazzina di via Bologna. Ad allertare le forze dell'ordine un vicino che ha assistito essere fatto al folle gesto. L'uomo, apparso subito in stato confusionale agli agenti, ha detto di aver visto nel cane l'immagine del diavolo. Portato in psichiatria all'ospedale San Donato non è risultato aver assunto alcol o droga, resta comunque ricoverato per le valutazioni e gli accertamenti del caso.